Ma insomma, il tempio della velocità diventa per noi anche, diciamo, fonte di ispirazione. Il Consiglio dice bisogna andare veloci, Giorgetti dice prudenza. Bisogna andare veloci con prudenza, se uno va troppo veloce sbaglia. Se sali su una delle mie auto, ci sali per vincere. Ma guardi, ho trovato questa polemica di Favino ridicola. Bart Lancaster nel Gatto Mardo, che facciamo? Lo cacciamo e ci mettiamo a badantuono? Eh dai, su. Ecco, vedo il vittimismo del sovranismo, no? La possibilità di valorizzare quella storia, quella tradizione che ha visto eccellere tanti attori. Ma va bene, fai campare gli altri pure, no? Grazie, senatore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.